Ciao, sono Jess di Penny and Mars e questa è la mia box challenge. Contiene molte domande e io cercherò di rispondere a quante più possibile in un minuto. Pronti? Via! Ok, il tuo colore preferito. Dopo Penny and Mars il rosa perché è il colore della mia rivale e il viola perché è il colore di Lucy che è diventata un po' me. Adesso il sogno nel cassetto. Desidero fare l'attrice da quando ero piccola. Il mio sogno si sta avverando, perciò forza! Che superpotere vorresti avere? Vorrei poter fermare il tempo la mattina per dormire di più, restare a letto tranquilla senza che qualcuno venga a svegliarmi. Allora, l'ultima cosa che fai prima di dormire. Mi lavo i denti e mi lavo la faccia. Perché l'igiene è importante, ricordatelo sempre. Adesso, quale canzone ascolti a ripetizione? La canzone del Mars, ovvio! La canzone dell'anno, che domande! E il complimento più bello che hai ricevuto. Non so, non ne ricevo moltissimi, non ne ho idea. Forza, andiamo avanti. Quali caratteristiche deve avere il tuo ragazzo? Deve essere gentile, deve trattarmi sempre... Oh no, non è andata molto bene. Grazie ragazzi, spero che vi siate divertiti. Guardate tutte le altre box challenge e ricordate di seguire Penny on Mars su Disney Channel. Ciao!